... Michele, c'è la pistola o faccio lì lo starter? Faccio, parto da dieci, però dieci ci arrivo qua, poi ha un problema. Allora, fermi lì, poi ci spostiamo, fotografi inizione. Ok, ok, confermato? Confermato! 3, 2, 1, via, partita la ventisettesima edizione della sua battaglia. Fruto per i ponti, il vento per l'agricoltura, fruto per i ponti, vintisettesima edizione, la ventisette di Fiatria. La nostra è in quale edizione, veramente uno scherzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.